il maestro qui ho ho ho, sono le terrasse no, perdonanelo hola io lo metto, io lo metto io lo metto no, no, poter, poter no, non, poter no, questa, attraverso no, poter, attraverso no, tener sui e ISQUERDA ISQUERDA XIERDA Rq izquierda la Sì, abbiamo bisogno di mantenere un ritmo, una constanza per essere regolati nel torneo. E ottenere i tre punti ciò 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 ciò. Neswa è stato qua in settemliga, ciò ciò sta cercare che,e siamo cercando di mantenere tutto le deciamate lo come, cosa dobbiamo capire? Il Phil he così, ciò 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 no ho Jazzidad Grazie a tutti.